Cazzo vuol dire? Cioè non c'era davvero, cazzo ne va a fare più Però il cesso figa Eh appunto, devi far pinta di non esserci ancora Si viravano Ma io adesso Non troverò nemmeno un'arma, morirò E staccherò No perché è next game Siiiii! Quello che volevo da sempre Un cazzo ragione che non siamo domani riguarda ragnarok bravissimo c'è uno sul tetto l'epic chiusura è arrivato le canzoni recenti di baby romano ma stanno rianimando il compagno non cado di nuovo ciao zio però c'è un galax qua ma io l'ho preso in giro mi hai preso qualcosa di nome tommy gun io c'entra però c'è uno scelte grande da vi faccio perdonare con questo grazie grazie al cazzo che me lo dai si cucina e poi c'è un'altra ancora fra prendi io ho i mini c'è un tizio fuori? eh figa non l'ho preso per un istante vaffanculo ramazzo questo cazzo mi ha quasi settimato eh brava per gol per istro negrò è rotto ma un pompa sti idiota brava vai sopra a prendere l'altro shield bra bra che cazzo uno skin oddio guardalo guardalo ma nessuno ha un pompa in questa lobby brava vai a prendere quello shieldone è sopra proprio sopra in tetto no sul tetto no è sul piano di sopra a sinistra ok avete colpi sniper? e colpi pompa anche perchè non è un no bra che non ho nemmeno un pompa brava hai preso lo shieldone no dov'è? qua fra guarda un po' uh fra ti lascio la cosa a blu che volevi non è vero pezzo di merda cambia la tocca da te mi colpi sniper 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 no 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 qui c'è un pompa stupendo non è che se dovessi andare a colore no tra l'altro karma karma visto che però non ho sniper la prendi raga ma vi ricordate quando il pump si switchava instant? ok 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 si dei tempi dei tempi figa ma invece vi ricordate all'inizio che mi serve direi al pump che l'animazione era tutta fatta male e quindi non sapevi una mezz'ora oddio è vero no non sapevi quando potevi sparare perchè tu cioè il pompa l'avevi estratto però non potevi sparare basta cioè che tipo ti faceva morire e infatti nessuno usava il double pump in quel periodo perchè era fatto oh comunque qua c'ho lanciarazzi no c'è morto quindi lo prendo io c'è una slurve se qualcuno mi vuole portare io ho lo scudone hai trazi? hai trazi? mi riesce di un 2 io li posso portare non sei e io mi infillo affamato no brava porta la slurve non fare il minchione ma ho lo scudone però la slurve è meglio di uno l'ho bevuto suca eh tieni però l'ho pre... perchè c'è sto prestito? la posso portare io se vuoi prendilo eh no c'è se tu fossi sopravvissuto adesso avessi si lanciarà ah ah a Dusty ci conviene scendere a Dusty? si 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 ci conviene ci conviene quanti colpi bombayerno ti metterai ti metterai io sto facendo la mano comunque c'è qualcosa che non va cioè perchè non è possibile che ma scenda a Dusty a zero kill cioè tu stai assalti a zero kill eh cioè non fai da nessuno non muore non gli succede niente no poi lutta tutte le... riesce a lottare tutte le case si è cool come non si sa dame questi bombayerno due io ah è timmelo cazzo che ne... non ci posso pensare il karma ha bevuto una snurf ah a cazzo quando qua ci sono i funghi e si fullava easy no 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 cazzo lancia raggi lancia raggi uh anche da dietro marcatroia ah eccola qua guarda 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 come stilla ma la cosa che era mio dall'inizio vai l'ho devastato arriva arriva la squadra del... arriva la squadra di cose di... di... merda di... di... no 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 da sopra da sopra 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 cazzo dove cazzo mi vuoi ma guarda come tu NO GUARDA ok 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 Diego tu sei a posto si brava mi sono nascosto però c'è un altro tizio ancora attenti altri due minimi ma ti devo dire anche ah beh c'è la trappa come se io la trappa ma c'è arrivata in panico è morto un team è morto io mi do un attimo mi cura un attimo io non ho no uno senza shield e vedi ah no 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 no, guarda l'altro merda 1 fatti cadere morti tutti bruciato che cazzo abbiamo fatto non so che cazzo è successo io ho mini raga anch'io e io raga io ho un campanile crema a prolete raggi se potessi di se io no io ho 3 3 mini io non sei però se vuoi posso portare e ma vieni qua c'è un'altra gente da buttare avete raggiunto e io la giampa raga io la giampa qualcuno la prende la metà io poi è una falla visto l'ho visto carla vista un cazzo lo trovo ma vieni qua sta salendo per un poste è preso e basta e non credo che avesse altro per un'altra cosa meno a cazzi faccia in chiarata sono stati da una situazione bruttissima io 3 Ok ma andiamo a tirte Cioè praticamente abbiamo fatto 5 kill Solo a Dusty Dica più che altro Una me l'ha spillata Abbiamo un no No abbiamo Tutti qua sono arrivati al lungo Tra ma in realtà Cioè quello che mi ha noccato a me Era uno del team che è arrivato Qua c'è una Tommy verde Sì fra perché mi è arrivato da dietro Cioè da sopra Non puoi dire che ti ho studiato neanche Vabbè mi c'entra Cioè se ti mi è studiato neanche Raga 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 datemi ferro Ok lo farmo C'è una jump Ma potremmo farne anche uno a te Io mettere lecce l'avevo già Poi gli avevo abbastanza Quanto di ferro Tutto sto ferro Ora devo sparare Posso che far ferro Andiamo a questi stranci Sì verso sud ovest Stanno sparando Comunque quanto odio questa cosa Tra carrelli e auto Non puoi dire Il dato C'è anche gente a 195 A due sono esattamente loro Vai vai C'è uno È praticamente fermo C'è uno Ma un sparkles Come cazzo si chiama No frallo lisciata la Rook Vogliamo jump Arre raga Sì sopra quelli Asset Cato un altro Tra io gli stanno Da dietro da fa Ma io già un po' Sì fra jump A jump Io ormai già sono avanti Quei jump Vieni 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 Vedrà vittrati Spesso Ti da Ho vittato gente Raga la spargo L'ho qui Ma sono tutti Cosa Sono cati Dico Ma cazzo hai fatto Figa Ho cito tutti 8 kill 8 8 C'è un altro Noccato Non so fra Quanti Noccato Noccato Eravamo tutti insieme Vengo qua Vengono qua i Rax Eeeh Probabilmente non scendoro Io ormai Io ormai Io ormai Se volete Dico La rai Salla mia Vieni 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 Però vedo un altro Jump Io no Ci stanno spammando Ah io non sprecherei i razzi così Oh frate dietro 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 La cosa più alta Ma donna non c'è Ma c'è qua Ma c'è qua Raga se n'è andato Se n'è andato nel lift Andiamo al lift Non c'è arrivo io Frate apri un attimo la porta Ma come la porta Ok raga non vi sono Ho capito dove spara quello Ok ho ammazzato quello che ci spama Eccomi però avete bene per me Qua c'è un medico Di qua di qua Ok arriviamo Ho fatto fall damage Ci sono due medico addirittura Ma calma di ci vieni in questo po' che sei medico No fra Allora facci direttamente in faccia Hittato uno Hittato uno di nuovo Diego tu lo sai fare o quello dello switch Eh si Ok aspetta Se ti si bugga fai contro Andate in test Andate in test Hanno liftato anche loro Uno però non ha liftato Atterriamo prima di noi Una non ha liftato Uno non ha liftato Eh stillato stronzo Uno ce l'avete dietro raga Ciao Uno dietro di me Un po' che vabbè Un po' che vuoi Un po' che vuoi La cosa stai facendo qui? Ho capito Ho capito F*** non so Mirare Non è accaduto, non è accaduto, non è accaduto Ah, vaffanculo, però Volevo io la kill Ci sono mini qua? Ho perso la vera vita per stasunzare L'attenzione è che potrebbe scendere una delle seconde teca Ah, in realtà due No, ma sì, siamo in tre cazzo Mini, 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 datemi mini Eh, non prendetemi il raffle, è mio Eh, ma vieni dentro Ah, vieni, ti ero, l'agile, l'ho Ok Ma se ne sono di culo Senomale che proprio Appena l'ho messo, tipo, hai Cioè, appena stava per metterlo, la si è cancellato No, no, però, mi sono iniziato malissimo Avete bene, avete bene, bene, bene No, a parte che No, però Mi sono proprio a caso Io sono full di mini Hai te razzi, raga Tieni No, tu le riesci io Ah, ok, allora prendo questo Però, prendi quelli che rimangono Prendi quelli che sono full adesso Ok Presi io, presi io Andiamo, raga Andiamo qua sopra Andiamo qua sopra Ah, ma io ho una jump E anche le bounce Ma l'ho messato Madonna, ho fatto metà vita Prossimo No, no, aspetta Io mi Vaffanculo No, io ho la jump, raga Anch'io, ho un cazzo Ho posto metà vita nel modo più stupido del mondo, però, figa Ho visto la scelta Eh, io mi sono agganciato L'ho messato il gioco Guardate la jump, guardate Visto Ha trovato un altro modo per fare l'aspatario Ho finito tutti i materiali, però mi è valuta la pena Allora, io ho l'Italia Dove potrebbero essere Io sono altissima, non li trovo È una prima opzione È una che stanno dentro il campo da calcio O nel camion Io vado a scordare il campo da calcio Sì, però, secondo me stanno No, però Cioè, guarda quanto è fuori sei Fra, è difficile Ho già guardato tutto il perimetro Neanche nel camion Non stanno No, no, già l'ho rotto Io vedo da sta parte Io vedo da sta parte Fra, è qua Nel cespuglio Uno, vero Eccolo Madonna, anche questo nel cespuglio Ma che si sono organizzati Non ho capito Ma l'hai toccato o l'hai finito tu? No, l'ho finito Anche io Ma non ho entrato in un cespuglio Sì No, l'ho finito No, l'ho finito No, l'ho finito